Aspetta! Ambarabaci ciccocò! Vado prima io a quanto pare! Vedi anche tu quello che vedo io! Un piccolo esserino viscido! Che schifo! Allora non ti piacerà quello che c'è dopo? Ma stai bene! Che sifona! Oh, Emma? Guarda! Posso vedere nella tua mente? Dai, scherzo! Ora apri il tuo! Una torre di cento occhi viscidi! È la cosa più schifosa che ho mai visto! E devo mangiarli tutti! E se mi crescessero in faccia? Più ne mangio, più me ne spunteranno! No! C'è solo una cosa da fare allora! Quelli rosa sono buonissimi! Anche verde non male! Potrei mangiarne centinaia! Sara! Il terzo occhio! Ops! Molto meglio ora! E se succedesse qualcosa di brutto? Non puoi farcela da sola! Sono davvero buoni! Cosa pensi che sia? Pronta? Chichi di mais! Ma non scoppiati! Che dovrei farci? Un piccolo chicco di mais! Perfetto per il mio mini microonde! Era una vita che aspettavo di usarlo! Non dovrebbe metterci tanto, vero? Ok, vai dentro, piccoletto! Ci vediamo tra un minuto! Sarà buonissimo! Guarda come scoppia! Finito! Wow! Bello, eh? Anche a me piacciono i popcorn! Un attimo! Posso cuocerli con questa! Vuoi aiutarmi, signor sole? Ci sono! Con la luce si scaldano, guarda! Scoppiano tutti, uno per uno! Attenta! Potrebbero finirti addosso! Capito cosa intendo? Un attacco di snack! Aspita, hai ragione! Vai prima tu! Beh, ma che peccato! Potrei mangiarlo con questa! Vieni qui, mini cirio! La dimensione perfetta per questa pinzetta! Tutto fatto! Sì! Significa che è il mio turno! Un sacco di cereali! E sono tutti per me! Wow! Che ingestizia! Me la mangio tutta! Sicuramente mi sta benissimo addosso! Emma? Ma dove è finita? Cosa? È un concerto! Che collana questo tipo! Wow! Fantastica! Beh, anch'io indosso roba importante! Scambiamo? Sì, grazie! Cantate tutti con me! Ci stanno dentro! Apriamoli insieme! Wow! Un buono per la spa! Per me? Beh, non male! Io ho solo una caramella! Beh! Io vado alla spa! A dopo! Quelle gialle mi piacciono! Ah, è così gommosa! Le faccio fare un giro! Brum! Bip bip! Spostatevi! Wow! Ma che bella auto! Aspetta! Questo è ancora meglio! Macchinina via! Con te abbiamo finito! Ecco qua! Mettiti sul tuo trono! Ehi! La mia foglia fortunata! È perfetta come ventaglio! La terrò bella fresca! Ah! Mi merito un po' di tempo alla spa! Farò un bel bagno rilassante! Ah sì! Tante caramelle! Infinite! Oh! Potresti riempirmi il bicchiere, per favore? Grazie! È perfetto! Questo bagno di caramelle è spettacolare! È un sogno che si avvera! Potrei rimanere qui tutto il giorno! Adesso ho uno scrub di caramelle! Non c'è niente di meglio! Posso finalmente mangiare la mia caramella! Ehi! Ah! La mia caramella! Wow! Sta proprio in alto! Più a sinistra! A sinistra! Sta più da questa parte! Ah! Non riuscirò mai a prenderla! Ci enunci così? Oh! L'ho presa! Hai mangiato la mia caramella! Ma che giornataccia! La mia non è stata così male! Wow! Il tuo è in un secchio! E il secchio è pieno di noodles! E guarda quanti ce ne sono! Non ne ho mai visti così tanti! Sei invidioso, vero? Adesso assaggio! Eww! Ma non sono buoni! Beh, perché non si mangiano così? Devi aggiungere il condimento! E serve l'acqua bollente per cuocerli! Ecco qua! Adesso si cuoceranno! Servono le bacchette! Ok! Ho capito! Aggiungerò il condimento! Tanto perché ho un secchio da riempire! E adesso l'acqua calda! Sarà un pasto abbondante! Devo assicurarmi di ricoprirli tutti! Sembrano buoni! Adesso posso mangiare! Meno male che ce li ho anch'io! Sono affamata! Per fortuna sono tanti! Wow! Ha proprio fame! Sono deliziosi e saporiti! Devo prendere anche questi! Ah! Fatto! Magari ne avessi altri! Ehi! Ma lei ne ha in abbondanza! Ecco qua! Non se ne è nemmeno accorta! Ne mangerei un'infinità! Wow! Questo qui è lunghissimo! Ehi! Questi sono miei! Lascia! No! Ho ancora fame! Ora basta! Userò le forbici! Ecco! Stai alla larga dai miei noodles! Wow! Julie! Hai un'intera ciambella tutta per te! Oh! Ma quelle piccole sono così carine! Beh! Una piccola ciambella è pur sempre una ciambella! E la parte migliore è che posso fare questo! Una ciambella su ogni dito! Julie! Ti piacciono i miei anelli? Mangiamo! Sono così buone! Beh! Ok! Ora mangerò la mia ciambella gigante! Ora sì che va meglio! Ma che buona! Mi sento come se piovessero ciambelle! Ora che è distratta è la mia occasione! Ciambelle ovunque! Grandi ciambelle! Piccole ciambelle! Fammi dare un bel morso! Oh! Ma è proprio fantastica! Devo darci dentro! Sembra che Julie stia in un mondo tutto suo! Vorrei avere più mani per riuscire a mangiarla più velocemente! Non posso credere di averla finita tutta! Devo nascondere le prove prima che se ne accorga! Questa andrà benissimo! Ciambelle qui, ciambelle lì, ciambelle ovunque! Ma non ho bisogno di sognarle quando ne ho una proprio qui! Ciambella? Ma sei tu? Cosa è successo? Claire, questa non è la mia ciambella! Questa è una foto della mia ciambella! Julie, forse ti posso aiutare! Ecco dei confettini per te! Sì, i confettini sono fantastici! Ecco qua! Goditeli! Evviva! Mischiamole un po' questa volta! Sei pronta? Vediamole! Sì, di nuovo grande! Pizza! Julie, io ho una grande pizza! Oh, io ho una piccola! Chi vuole una pizza così piccola? Nessuno! Beh, allora tanto vale mangiarla! Vieni da mamma! Ma cos'è questa strana sensazione? Ah, Julie! Ciao Claire! Sto solo osservando la tua pizza! Beh, penso che porterò la mia pizza da un'altra parte! Quella è Claire con la sua pizza! E se la sta mangiando tutta! Ma come diavolo fa? Wow! La luce è tornata! La pizza era deliziosa! Oh, un pezzo di salame! Ok, sfida finale! Julie, scegli ne una! E poi girala! Uffa! Di nuovo piccolo! Orsetti gommosi sono adorabili! I miei sono così piccoli e carini! Il mio è grande e morbido! Guarda, è grande quanto la mia testa! A proposito di teste, addio! È ora di mangiare la testa di quest'orsetto! Wow, Julie! Ma come sei brutale! Beh, ha ognuno il suo! E via con i miei orsetti! È piccolino! Ma super saporito! Ehi, ho questo metro! E ho un'idea! Vieni con me! È uno scivolo per orsetti gommosi! Giù! Sì! Vivrò per sempre! Tocca a te! Ecco che arriva, Claire! Oh no! Claire, fa attenzione! Uno, due, tre! Wow! Cento Pringles! È un vero sogno! Riuscirò a mangiarle tutte! Oh! Ma io ne ho solo una! Vorrei averne tante anche io! Sì! Tutte mie! Wow! Le stai divorando! Ma sono in paradiso! Sì, credo di sì! Sono la regina delle Pringles! Questo è il vestiario tipico dei reali Pringles! Con i gioielli della corona Pringles! Grazie! Grazie a tutti! Aspetta! Da dove arriva quella Pringol rotta? Oh no! Si stanno rompendo tutte! Ah! I miei vestiti! Ehi! Ehi! Ma stai bene? Hai le allucinazioni! Cos'è successo? Ero... Regina delle Pringles? Sì, ti ho sentito dire una cosa del genere! Beh, sempre meglio che essere una papera! Ehm... Ok! Ah! Ho un'idea spettacolare! Ma continua a scappare via! Dove accidenti va? Si sta così bene fuori! E ora sfruttiamo questo pane! Ecco, piccole papere! Mangiate! Ho preso questo pane solo per voi! Quac, quac, quac! Oh, principino! Tu sei il mio preferito! Appiamoli insieme! Cosa? Dov'è il cibo? Ehi! Cibo in consegna! Chi vuole le ciambelle? Oh, wow! Sembrano buonissime! Sì? E non dimenticatevi questi! Bene! Uno, due, tre... Via! Alla salute! Ok! Io vado! Uffa! Mancato! Ah! Forse questa volta! Sì! Ci sono riuscita! Uh! E di nuovo! E dai! Perché io non ci riesco? Ed ecco un'altra! Evviva! Due in uno! Sì! 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 Che ne pensi? Ma che accidenti! Ha fatto una torre di ciambelle! Sì! A quanto pare sono portata! E ora il premio! Si mangia! Sì! 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 Un premio! Posso iniziare io? Per favore! Vai! Gomma da masticare! Amo queste gomme! Sono le mie preferite! Apri! Forse anche tu hai delle gomme! Oh wow! Anche io ho le gomme! Sono giganti! Tantissime gomme! La mia ora sembra minuscola! Tirane un po' fuori! Vediamo quanto è grande! È gigantesca! Wow! Ok! Do un morso! Vorrei anch'io una gomma gigante! Guarda quanto sono brava con le bolle! Ce l'hai tutta in faccia! È così! Wow! Questa sì che è gigante! Oh no! Stai volando via! Non lasciarmi! Ciao! Mandami una cartolina quando atterri! Sono così in alto! Wow! Quanto è bella la terra da qui su! Ah! Stare da sola non è divertente! Mangio un po' di gomma, dai! Forse con questa starò meglio! Sto cadendo! Ehi! Sei tornata! Mi sei mancata! Uno, due, tre, apriamo! Ah! Sono normalissimi lecca-lecca! Non capisco! C'è un errore! Aspetta! So che dobbiamo fare! È l'ora della bacchetta magica! Dove l'hai presa? Guarda! Magia! Funziona! Ho un sacco di lecca-lecca ora! Wow! Mi hai stupita! Ehi! Puoi farlo anche per il mio lecca-lecca? Ok! Magia! Wow! Wow! Ti ho creato un lecca-lecca gigante! È enorme! Il più grande che io abbia mai visto! Chissà quanti riesco a mangiarne! Beh, è il momento di scoprirlo! Ne ho mangiati troppi! Ma che buoni! Sì! Continuerò a mangiarli! Oddio! Guarda quante cartacce! Via! Ehi! Cos'era? Li hai mangiati tutti? E se anche fosse? Che problema c'è? Nessun problema! Ok! Vieni da mamma-lecca-lecca gigante! Aspetta! Bleh! È cattivissimo! Che schifo! Vattene via, mega-lecca-lecca! Tieni! Prendine uno dei miei! Apro prima io! Sì! Un Ferrero Rocher gigante! Io ne ho uno normale! Sono così gasata! È gigante! Io li amo! Cosa? Non è giusto! Anche io vorrei quello gigante! È praticamente grande quanto la mia testa! Vabbè, ok! Mangerò quello piccolino! Sembra così piccolo! Buono! Ma l'ho mangiato in un boccone! Dai! Sì! Inizia a mangiarlo! Oh! Giusto! Lo scarto! Ah! È d'oro! Che strano! Ma certo! Devi ancora aprirlo! Oh! Sì! Guarda quanto è grande! Buonissimo! Mamma mia! Ehi! Dentro ce ne sono tantissimi altri normali! Non ci credo! Guarda quanti! Ehi amica! Immagino tu voglia condividerli! Certo! Puoi mettere questo cappello! Scherzo! Certo che li condividiamo! Aspetta! Ambarabà, cicicocò! Ok! Vai! Wow! È una vera pannocchia! È così... Enorme! Non dovrebbe scoppiare! E io che ho? Non è la pannocchia più piccola mai vista! Ma non preoccuparti! Non sono arrabbiata! Mi fai morire da ridere! Diamo un bel morso! Non male! Oh oh! Emma! Sta succedendo qualcosa! Wow! Sei una macchina umana di popcorn! Wow! Non me l'aspettavo! Vuoi un po'? Io mangerò la mia mini pannocchia! Almeno ho le posate! Tutto ok! E ora mangiamo! Ehi! Affilate! Speriamo sia buona! E? Mmm! Semplicemente deliziosa! Se lo dici tu, Wendy! Puoi masticare più piano! Ehi! Posso iniziare io? Wow! Mini sushi! Speravo ci fosse più di un pezzo! E ho un sacco fame! Ci credi? Minuscolo! Lo so! Anche le bacchette sono mini! Ma le mie dita sono comunque normali! Ehi! Ehi! Sembra buono! Mmm! Felice che ti piaccia! Oh! E ora ho finito! Ho ancora famissima! Che abbiamo qui sotto? Scopriamolo! Mamma mia! È più grande della mia testa! Hai ancora fame? Lo farò tutto fuori! E ha un odore fresco e buono! Come farò? Pronta all'attacco! Ehm... No! Ora sì che si ragiona! Ma davvero? Ok, dovrò usare le mani! E la bocca! Wow! Ehi, Wendy! Che c'è? No! Non dimenticarti di respirare! Ehi, beh! Prendo quello che posso! Oh sì! Questo sì che è un vero pasto! Ne prendo un po'! Pronta? Uno, due, tre... Ta-da! Sono della stessa dimensione! Cosa? Non capisco! Proviamo di nuovo! Toc, toc! C'è qualcosa di grande qui? Ehi! Ho detto... Ehi! Forse non è stata una buona idea! Dovremmo aprirle! Sono nervosa! No! Peggio di prima! Molto peggio! Ma forse a me è andata meglio! Capito che intendo? Sono finite tutte nel tuo piatto! Quelle rosse nemmeno mi piacciono! Complimenti! Colpo perfetto! E ora cosa farò? Guardi me che mangio! Non sono bellissime! Guarda come le mangio tutte! Arrivo! Si sta dando troppe arie! Forse riesco a prenderne una! Ecco! Continuano a cadere! Finalmente! Giustizia è fatta! Pazzesco! Non sei d'accordo? Certo! Ed è ora della prima sfida! Vado io! Ma qui non c'è nulla! Io ho fame! Voglio mangiare cento strati di qualcosa! Guarda tutti questi strati! Che bell'hamburger! Formaggio, lattuga e carne! Aspetta! Ma come faccio? Ah sì! Lo schiaccerò finché non mi entra in bocca! Dai hamburger schiacciati! Wow! Ma che cosa è stato? Hai del ketchup in faccia! Alla faccia tua ho qualcosa da mangiare almeno! Chi se ne frega! Non ho ancora aperto il mio! Ah! Non c'è nulla! Significa che devo aspettare? Forse no! Forse c'è già qualcosa nel piatto? Devo guardare meglio! Un mini mini hamburger! Ma come si mangia questo? Oh sì! Oh sì! Delle pinzette! Eccoci! Adesso ti mangio! Anche se è piccolo era davvero buono! Secondo me hai appena mangiato del cibo immaginario! Io mi tengo questo gigante! Ho sempre voglia di patatine fritte! Soprattutto quando sono fresche come queste! Ho già l'acquolina in bocca! Pronto? Wow! Perché tu hai quelle giganti? Questione di fortuna, suppongo! Sono davvero magnifiche! Quelle normali non reggono il confronto! Vieni qui mia piccolina! Oh! Vabbè! Sono sicura che le mie sono ancora più buone! Inizierò con questa qui! Guardala! Non si possono mangiare senza il ketchup! Mmm! È proprio perfetta! Sono pronto patatina gigante! Non potrei mai inzupparla lì dentro! Devo chiamare i rinforzi! È un sacco di ketchup! Lo mangerai tutto? Di sicuro ci proverò! Arrivo! Oh sì! Immergiamola per bene! Le mie patatine sono così misere e piccole! Che spettacolo! Assaggiamo! Questo è il pasto più ingiusto di sempre! Arrivo! Assaggiamo! Alla prossima! Alla prossima! È buona la prossima! Alla prossima! Grazie a tutti. Grazie a tutti.